Ciao, sono Angela Galatolo e ho fatto il corso di barman base. Ho conosciuto personale molto qualificato, i trainer sempre pronti a rispondere a ogni esigenza. Veramente sono cresciuta molto, sia a livello di bar lady che a livello personale. Grazie alle persone che sono qui, mi sono veramente riuscita a far combattere la mia insicurezza e far rimanere un po' più tranquilla, magari con vari consigli. Anche la segreteria è molto disposta a farti sentire il tuo agio. Persone fantastiche e io essendo timida consiglio a chiunque questa esperienza. Non avrei mai immaginato di essere così soddisfatta dopo questo percorso. C'è con il corso di barman e anche i vari corsi caffetteria. C'è un'agenzia che ti permette di poter lavorare subito e il mio ideale di lavoro è andare appunto in Francia. E grazie a questa esperienza posso farlo e mi candiderò quando sarò pronta. e ringrazio veramente tutti, mi sento così sicura e capace e sono felicissima. Ciao e bocca al lupo!